Senti che bella musichetta che c'è nell'aria Ah, conosci? Mi sembra di averla già sentita Anche questa voce qui che sento la conosco già Sì, sì, l'ho già sentita, sì Sì, è una che dice ciao Ne a un certo punto O per onore ci somiglia Come dice? Ah, è Moreno È lui Ah, è lui È lui, è lui, è lui, è lui, è lui Moreno, guardiamoci negli occhi Che poi non ci guardiamo negli occhi Perché nel nostro loft studio grandissimo non ci vediamo Noi ci parliamo a distanza Sì, sì Ma ti volevo dire Io sono andato a Montichiarugolo Rappresentavo Race Off E tu? Niente, Nisba Come no? Io sono stato alla riapertura dell'arcoveggio Ah, noi ci differenziamo nei ruoli Giusto, giusto? Non è che possiamo essere ovunque Dopo il lockdown L'abbiamo la chiusura Comunque fa niente E ha riaperto anche l'arcoveggio Per l'ultima riunione del primavera Anzi, inverno-primavera Estate Tutte e tre Le abbiamo fatte tutte le sere Estate, sì Il 2020 Ci hanno dato presenziato Alla riapertura Allora, ascoltami Visto che la puntata di oggi è dedicata A questa riapertura Anticipiamo una piccola considerazione Sul balier che si è Svolto nei giorni scorsi E ovviamente Alla mia esperienza Diciamo A Montichiarugolo Innanzitutto ti chiedo Com'è andata la ripresa a Bologna Poi dopo manderemo Un intervento che ho realizzato A Montichiarugolo Provincia di Non so se provincia di Parma O Reggio Emilia Però a Montichiarugolo L'ipodromo del castello Reggio Emilia Reggio Emilia Sono ignorante Lo metto Non ho approfondito Mi sembra Mi sembra Però è lì dal confine È Fiumenza Di qua e di là Da una parte Parma Dall'altra Reggio Emilia E Montecchio Emilia Per meglio dire Comunque no Parlavamo di Bologna Prima giornata Com'è andata? Andata Che sembrava che ci fosse Un gran premio C'era un sacco di gente Bella gente Proprio Belle corse Veramente Sono rimasto stupito Sono rimasto stupito È stato qualche problemino Per un fatto di gioco Che C'erano pochi terminali Ma per il resto Probabilmente Neanche loro S'aspettavano Un afflusso Del genere Ma ti dirò Che Proprio C'era un sacco di gente Poi Bello Gente che Si è comportata bene Distanze Evitato gli ammassamenti Tutte quelle cose Lì No no Ti dirò che Forse era Tanta la voglia Non lo so Però è stata Una bellissima giornata Proprio Di quelle che Erano anni Che non passavano Senti Anche a Bologna Una bella giornata Di sole Come è stato A Montecchio Anche troppo Mi viene da dire Perché Sì beh Siamo a fine giugno Certo Mai Il tempo è questo Però Come ti dico Una giornata Così Di appunto Di fine luglio Pensavo La gente Chissà Forse va al mare Forse no No La gente Venuta all'ipotono Bene Un vero ipico Si riconosce Nei momenti Del bisogno Speriamo Che sia di buono Auspicio Per la ripresa A Settembre O per Cesena Quindi È di buono Auspicio Speriamo Speriamo bene Speriamo No io ti devo dire Ho detto un po' esagerato Perché invece In quel di Montecchio Dove mi sono dovuto Rimettere la tuta Cosa che non facevo Da tre anni Più o meno E devo dire Che il mio corpo È cambiato Eh sì Il mio corpo è cambiato Stavo un po' stretto C'era un ombelico Che saltava fuori Quando chiudevo delle esive Non lo so Mi facevo delle domande E anche è vero Che è stata appunto Una giornata Particolarmente simpatica Perché Il brindisi Era Era l'ordine del giorno Il brindisi A prescindere Sì 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 Immagino Però Ecco al di là Di una grande cordialità Di una grande voglia Di divertirsi E devo dirti Che 32 gradi Con un po' di birra Che comunque hai bevuto Per appunto Rinfrescarti il pranzo Un po' di tigelle Un po' di gnocco E un po' di salumi Puoi mettersi appunto Queste tutine Chiaramente tutte simpatiche Che ti coprono tutto Più la giubba Più mascherina Per andare in pista Io ti posso garantire Che non è stato banalissimo Non è stato banalissimo È stata più la fatica Del gusto Come si diceva una volta No 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 Sul gusto assolutamente È stato talmente alto Però la fatica Non è stata poca Tanto la fatica Tanto la fatica Tanto il gusto Almeno Non si gode Però mi dispiace Mi dispiace dire Che non ho tenuto Molto alto La bandiera di race off Perché diciamo Che ho fatto Un terzino Come si dice Su quattro Però il terzino Mi ha garantito Di arrivare Nella finale di consolazione E nella finale di consolazione Un terzino su tre Che si dice anche Da altre parti italiane Si dice ultimo Beh non è neanche male Poteva andare peggio Poteva non arrivare al palo Poteva non arrivare al palo Quindi noi Con il fatto Gentleman Cosa significa Gentleman? Gentleman significa Che si partecipa Per partecipare Non per vincere Certo I professionisti Devono vincere I Gentleman Devono divertirsi Ti sei divertito? Sì sì Però il Gentleman Che ha partecipato Si è divertito e ha vinto Si è divertito di più Secondo me Beh Senza altro Chi è che ha vinto a proposito? Allora Devo dire che Ha vinto Jessica Pompa Ma di tanto ha vinto Sì Con Nudles BF Ha vinto la prova Lo sai che Nudles BF Mi sembra che sia Il recordman Dei cavalli In corsa Mi sembra che abbia Su un Sì no Tra l'altro 500 corse Ha corso domenica Montechiarugole Ha corso credo Lunedì a Follonica Sì 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 Lui ha Sul 500 corse Più o meno Esatto In carriera Penso E poi un cavallo Che va ancora Assolutamente Una prestazione Veramente da Circoletto Arcobaleno Come diceva qualcuno Perché partenza Con i nostri Scattata davanti Bravissima Jessica Che ovviamente È sempre Molto Elegante Perché dà sempre Il merito al cavallo Di tutto quello che fa Sì 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 Veramente molto brava Comunque ti dicevo Veramente una Una bella giornata Con tanti protagonisti È giusto che ricordiamo Che comunque La quota rosa È stata ben rappresentata Da Sara Bruni E appunto Da Jessica Bandolera Pompa Che hanno vinto Due prove Una con Udas BF Cioè la pompa E con Pedro Almodova Invece ha vinto La Sara Bruni E poi da ricordare Anche tante belle prestazioni Una Una bella prestazione Di Viola Guidata da Andrea Luraschi E poi scusami È un apprezzamento A Tommy Che comunque Ci ha provato In tutti i modi A tenere alta La bandiera di Race Off Peccato che dietro C'era qualcuno Con troppe tigelle Da portare in giro Ecco tutto qua Però Tommy E Sabina Breccia Li ringraziamo Comunque Per la disponibilità Io penso Che la Sabina Ringratti Che hai fatto un lavoro Con il Trof Master Ah no ecco Adesso capisco Perché ci teneva tanto No no Ma mi fa il piacere Che lo guidi tu È un lavoro Con il Trof Master Hai ragione Sì sì Fantastico La prossima La prossima Mettiamo su Tommy No tra l'altro Mettiamo Tra l'altro Mi permetto di dirlo Ha fatto la consolazione Che sono partito Anche molto bene Potevo andare davanti Ma non avendo più La confidenza Non ho esagerato Ma ero andato Quasi davanti a tutti Partendo con il numero 3 E dopo Cercando di non forzare i ritmi Ha face fatto Due giri di fuori Arrivando ancora bene In retta d'arrivo Considerando che Praticamente Viene da 6 mesi Che non correva Sì Devo dire che Ha fatto un buon lavoro Un ottimo lavoro Un ottimo lavoro Col Trof Master Giustamente Ricordiamocelo La prossima La prossima La prossima Ecco Quindi Allora Detto di questo E detto appunto Della grandissima ospitalità Di Lorenzo Morini Di tutta la struttura Del podro del castello Di Alberto Foac Che comunque Insieme ai figli Di Francesco Talami A cui era dedicato Uno dei due trofei Diciamo In essere È stata veramente Un'organizzazione Veramente molto Molto bella Compresa La festa finale Dove c'è stata Tanta voglia di ridere Di scassare Cosa che dovrebbe essere Tipica Di queste giornate Di corse amatoriali Allora Per darvi Testimonianza Di questo Io ero ovviamente presente Perché ero là Come guidatore Ma non solo Come guidatore Perché ho voluto portare E rappresentata Effettivamente Rai Soff E ho intervistato Prima Lorenzo Morini Che sentiremo Dopodiché Un altro Graditissimo ospite Della giornata Che era Cesare Ercole Per cui Adesso Io manderò I due interventi Che ho registrato Direttamente All'ippodoma Del castello Dopodiché Ritorniamo Nel nostro studio Che poi Come abbiamo detto È un loft Comodissimo E grandissimo E commenteremo Un po' La giornata di corse Soffermandoci Soprattutto Sul baliere Che è stata Una corsa Importante E vi diremo Perché Anche se Quasi sicuramente Lo sapete già Allora Cari amici Di Race Off Io sono stremato Sono stremato Ma ebro di gioia Perché sono arrivato Sempre ultimo Voi pensate La follia Di questo uomo Denominato Bob Oggi Denominato Race Off Sono venuto Come avevamo già detto All'ippodromo Del castello Di Monti Chiarugolo Esattamente al confine Tra Reggio Emilia E Parma Perché ci hanno ospitato Ci hanno ospitato Hanno ospitato Race Off Soprattutto E oggi sono qui Con quello che è Uno degli organizzatori O l'organizzatore Lo scopriremo solo vivendo Cioè ascoltando Per pochi secondi Questa mia voce ancora Di questi eventi Che si tengono Quattro Cinque Sei volte l'anno In questo ipodromo Amatoriale Ma riconosciuto Ufficialmente Dal PINFAF Allora Sono qui Con Lorenzo Morini Che adesso Ci racconta Di questa magia Di queste bellissime domeniche Oggi fortunati Perché il sole è bellissimo Esatto E poi mi stavi dicendo Che non è finita Perché c'è la cena Sì Adesso arriva il bello Perché in realtà La corsa Era di contorno Per la cena Per mangiare due tortelli E del gnocco fritto Quindi per far venire la fame Esatto Esatto In realtà Tu non sei arrivato ultimo Ma sei arrivato nei primi tre Terzo In questo Questo caso Sì però correvamo in tre Quindi diciamo Sono dettagli Sono dettagli Da ex colleghi Come siamo già Questi sono piccoli dettagli Divertimento comunque Non è cambiato niente Esatto L'importante è quello lì No qua noi È un ipodromo amatoriale Che come dicevi te C'è nel confine Tra Montecchio e Reggio Emilia Credo che sia l'unico Ipodromo amatoriale In Italia Quanto meno Siamo da quest'anno Dall'anno scorso Riconosciuti dal MIPAF Quindi possiamo fare Corse Ovviamente senza Montepremi Perché non ci interessa Ma per divertimento Per cercare di far conoscere In un altro modo Il trotto Sia ai neofiti Che a quelli come noi Che sono già Tra virgolette Pratici Capaci di guidare Ecco Lorenzo Morini Facciamo un po' La tua breve storia Da trottofilo Allora tu hai iniziato Quando? Hai iniziato Esatto Ho iniziato come gentleman Intorno Al 1990 Io all'epoca Avevo i cavalli Da Vivaldo Baldi In Toscana Ah quindi Ti trattavi bene Esatto Mio padre era un appassionato Ha cominciato lui Andando a comprare Una cavalla In America Certa Cristina E con Cristina Rimedi Mi ha cominciato Io ero ancora piccolo Perché poco ne sapevo Ma l'ipodromo esisteva già L'ipodromo nel castello Le prime corse dei poni Tu sei di qua quindi Io sono di qua Sì Sono reggiano Le prime corse dei poni Da piccolino Con un pierino Un cavallo che si chiamava un pony Che si chiamava Pierino Da lì è cominciato l'amore Anche per me Sono diventato gentleman Negli anni 90 Fino alla La crisi dell'edilizia Che è del 2008 Che è quella che mi ha fatto Un po' calare Certo Il cavallo deve restare Un divertimento Finché potevo Mi sono divertito Ecco Hai detto una cosa Che noi ribadiamo Da che abbiamo iniziato Questa stagione Di race off Questa felice stagione Di race off Che il cavallo È un hobby È un hobby È un divertimento Può diventare Anche una fortuna In certe situazioni Sono situazioni occasionali Ma quello che ti dà Il cavallo La corsa E la partecipazione Alla vita Dell'atleta cavallo È tutto il contorno Esatto È la quotidianità È la quotidianità La carota È un partito La carota È star vicino A cavallo Io facevo Da quindicenni Facevo la notte In discoteca Però alle sei Magari non andando a letto Venivo qua Per sgambarmi i cavalli Restava un divertimento E la passione In primis Il fatto di poter andare A correre In un ipodromo ufficiale Era la ciliegina Sulla torta Certo Perché alla fine Riuscivi divertendoti Riuscivi a portare avanti Il tuo hobby La tua passione E ci voleva L'ipodromo del castello Come credo Ci voglia tuttora Per potersi fare Le ossa Come si dice Certo Cioè per potersi divertire Senza troppe pretese E imparare a guidare Perché nessuno nasce imparato Come si diceva No Assolutamente E poi tu A un certo punto Sei uscito Perché comunque Questo settore Ha avuto un suo picco Diciamo negli anni Che tu ricordavi Vivaldo Baldi Esatto Dopodiché c'è stata La crisi del settore E molti Ne sono fuoriusciti Esatto E tu però Non hai perso Appunto L'entusiasmo No io mi sono concentrato Nei paraggi Nel senso che Mi sono rinventato Mestiere Che è adesso Quello di ristoratore Con il trotter Tanto per stare in tema Certo Ovviamente Non si mangia tutto Tranne che la carne da cavallo Certo Però sarebbe stato male Però come Troppo troppo Abbiamo cominciato Con gnocchi e tigere e tortelli Sono la nostra specialità Sì E siamo riusciti a portare Negli ipodromi Della gente Senza sapere Che venivano in un ipodromo Credo Nel senso che Con il ristorante Abbiamo fatto avvicinare Un po' delle famiglie E come contorno Ogni tanto ci permettiamo Di fargli fare vedere Delle corse Dove Senza frusta Perché ritengo che Specialmente Nel ipodromo amatoriale Si debba correre senza frusta Certo E si fa vedere E si fa vedere Uno spettacolo Ai ragazzi Ai bambini Qualche soddisfazione Ce la stiamo togliendo La Tia mi sta dando Una grossa mano In questa cosa E Diciamo che i risultati Ma è vero Come dice qualcuno Ovviamente qualche Malpensante Che voi accettate Scommesse solo In cambio di tigelle Cioè Gioco Quattro tigelle Sul numero tre Neanche per quello Neanche per quello Noi ci mangiamo Dopo le tigelle E chi vince Chi perde Alla fine si smezza E via che andiamo No schiazza su questa cosa Perché il mondo del cavallo Ripeto È vero Che è legato Al mondo delle scommesse Ma non solo Le competizioni ipiche Però voglio dire C'è un modo Per portare avanti Questa attività Anche completamente Slegato al mondo Delle scommesse Parliamo di due cose diverse Ma l'amore per il cavallo Credo che sia Anche perché qui avete un maneggio Esatto Quindi fate anche equitazione Anzi raccontaci un attimo Quali attività Svolgete qui Nel centro Noi qua abbiamo cercato Di tenere il cavallo A 360 gradi Abbiamo fatto Gli internazionali Di endurance Facciamo tutti gli anni 4-5 concorsi nazionali Salto ostacoli C'è la scuola Per bambini Per imparare A andare a cavallo E ti dico Che tanti Hanno cominciato Con la sella E ogni tanto Vedevano passare Un trottatore Questo trottatore È cominciato a diventare Una passione Per alcune Sono delle ragazze Che lavorano qua da noi Che si sono messe a lavorare In varie scuderie Che sono partite qua Come sellanti Hanno conosciuto Un nuovo sport E sono diventati Appassionati Anche loro di trotto C'è un'altra maniera Per entrare In questo Settore In questo sport Certo che il connubio Per un posto così Proprio nascosto Dal castello E un po' dal verde Che c'è qua attorno Con la pista E due tigelle Che onestamente E due gnocchi Che io ho già sentito Quelli anche Oltre che un po' Di polentina Esatto Beh è un bel connubio Ci sta Abbiamo avuto difficoltà Inizio a farci conoscere Perché sicuramente Come dicevi te Siamo un po' nascosti Però c'è quell'effetto Sorpresa Quando si viene qua Il Noasi Verde Con una pista Credo che sia Ben tenuta Assolutamente Avendola anche oggi Provata Devo dire che Assolutamente È tenuta molto bene Perché come avrai notato Riesce a vedermi Il panorama Ti ha gusti di più Esatto È vero È vero Ascoltami Un po' le attività Quindi che porterete avanti Abbiamo avuto Questo periodo Che ha bloccato tutto Sì E stiamo tutti Più o meno Cercando di uscirne Sperando che non ci siano Ulteriori situazioni Che dal punto di vista medico Complicano Questa ripartenza Che idea avete Per il prossimo futuro Cioè nel senso Per quella che è l'estate No Qua con Con TEA Ci siamo ripromessi Di riprendere Il cammino Che abbiamo cominciato Gli anni scorsi Quindi vuol dire Corse motoriali Vuol dire Farci conoscere Sempre più da Da Roma Perché sono tanti anni Che avevamo provato Non ci siamo mai riusciti Ultimamente invece Ci stanno ascoltando Ci stanno Aiutando E questo aiuto Arriva da queste cose Ripeto Non ci interessano Le scommesse Perché è giusto Che ci siano Degli altri podi Dove si vada a scommettere Dove si fa tutto E noi qua Ci interessa portare Dei Noi Zaccherini Che tu hai intervistato Certo René Legati E Pippo E Pippo Gubellini Quando io ero piccolino Hanno tutti cominciato qua E da qualche parte Devono cominciare Quindi Noi ci proponiamo Per far cominciare I nuovi allievi Del futuro Ecco Ho capito Adesso perché Non ho avuto successo Perché io non sono partito Da qua Perché lei Mi ha citato E mi ha fatto la rovescia Ricomincio Ricomincio Da Montechi Giusto Quindi ok Allora Diciamo per chiudere Questo tuo intervento Ti ringrazio ancora Per l'ospitalità E anche Proprio Per come tenete curato Questo posto Diciamo che C'è una persona Che ascolta Race Off Tu pensi Che ci ascoltano Anche negli Stati Uniti Grande No Diciamo che Poi decido Una giornata Fa guarda Voglio provare Andare su un cavallo Al trotto Per assurdo Una persona Che viene da fuori Quali requisiti Deve avere Può venire A tocciare Qua da voi Può venire Assolutamente Noi abbiamo Una mini scuola Qua del trotto Proprio perché Per cercare Di cominciare Far cominciare I ragazzi Che sono volenterosi Che abbiano voglia Di cominciare Con tutte le difficoltà Non ti nascondo Che ci sono Perché in ogni caso Cavalli trottatori Costano Mantenere un cavallo Costa Però chi ha passione Davvero Riesce Perché Come siamo riusciti Io e te Credo Da piccolini Riescono anche gli altri Ci vuole Della passione Ci vuole E qua credo Che si entri Con Col piede giusto Perché Ti ripeto Non c'è Quell'assoluto Bisogno Bisogno Di fare Di arrivare Primi Si può Cominciare Arrivando Ultimi Poi Penultimi Poi Un giorno Si arriva Si può Anche vincere Però Lo fai Sempre divertendoti Esatto E questo Credo che sia Lo spirito Che ho Colto Anche io Non ero mai Venuto Ero venuto Qualche volta A vedere Da fuori Ma parliamo Di tanti anni fa E oggi Veramente L'emozione Più bella È stata Per uno Come me Che da tre anni Non metteva piedi in pista È stata Cogliere Uno spirito Bello Ti ringrazio Perché vuol dire Che abbiamo Lavorato bene Anche nella corsa Che abbiamo fatta Finita la corsa Ci siamo raccontati Perché hai fatto quello Perché hai fatto quell'altro Ma con uno spirito Che ovviamente è diverso Non c'è a Montepremi Quindi non c'è nulla Se non il gusto Proprio di partecipare Poi fra un po' Ci sarà la premiazione Da te Dove verrai premiato anche te Perché noi Il bello qua Che premiamo tutti Perché alla fine Tutti vanno a casa Con un premio E più che altro Con la pancia piena Ed è questo Quello che conta Allora posso chiederti Qualche nominativo Di qualcuno Che dobbiamo giustamente Ringraziare Per l'organizzazione Di questa giornata Perché ci sei tu C'è sicuramente Alberto Foa C'è Alberto Foa Perché è parte fondamentale Di noi Kea De Nittis È il mio braccio destro Manuele E Tiziano Talami Sono tutti e due Il braccio sinistro Ecco che tra l'altro Talami Oggi io ho partecipato Al memoria Al Francesco Talami Sì esatto Quindi colgo l'occasione Per Così ci puoi dire Qualche parola Ci piace ricordarlo Perché Francesco Era una colonna portante Era il nostro speaker Era la segreteria Era tutto quello che Passavamo dal parcheggio Alla reception All'ordine d'arrivo Era il factotum Certo I figli in due Faranno fatica a fare Quello che lui faceva in uno Però ci provano Sulla strada del padre Esatto E in ultimo Ma non ultimo Non per ultimo Il ringraziamento Al patron Dell'ipodromo Che è quello Che ci ha salvato Dalla crisi Che come tutti gli ipodromi Noi siamo un'ipodo Che non ha mai preso Un finanziamento Un euro di finanziamento Quindi ci manteniamo E grazie specialmente A un certo Rolando Paterlini Che è quello che ci ha salvato E del nostro presidente Quindi mi sembra Assolutamente giusto Doveroso ricordarlo Quindi ringraziamo anche lui E rimaniamo in attesa Ovviamente delle portate Della serata E dei premi Che a questo punto E delle prossime riunioni Mi aspetto Assolutamente Grazie Lorenzo Grazie a te Ciao Qui a Montechiarugolo Sempre in attesa Dei tortelloni E ovviamente Tigelle E quant'altro Che la serata Ci riserverà Si ha occasione Di incontrare Tante persone Che con l'ipica Ma a diverse latitudini E in diverse modalità Hanno avuto Il loro perché Oggi Dopo Lorenzo Morini Ho il piacere Di avere ai microfoni Qua in Chiamiamoli in diretta Da Montechiarugolo Cesare Ercole Grazie di essere Venuto qua A Race Off Mi ha detto Che ha avuto il piacere Di ascoltare La nostra Trasmissione Grazie alla puntata Che è stata fatta Con Mazzucato Innanzitutto Che parere Di questa novità Radiofonica Se così ci possiamo Definire Beh innanzitutto Buongiorno a lei E buongiorno a tutti Quelli che ci stanno Ascoltando Che io reputo Siano tutti Appassionati E legati A quella che io Chiamo L'ipica del cuore È chiaro Che Oggi mi trovo Come protagonista Di questa Bellissima manifestazione Intitolata Ad un caro amico Il gran premio Che ci ha portato Ad essere qui A Monte Chiarugolo Era intitolato Ad un Ad un Appassionato Un grosso Appassionato Del nostro Ippodromo Tutto sommato Direi Che è giusto Che Questa radio Dia voce Soprattutto A quelli Che non Possono esprimere Il loro parere Che vivono Dietro le quinte Ma che Riconoscono L'ipica Come Qualcosa Che li ha Trascinati Nella loro vita E quindi Ha predisposto Tutto quello Che può essere L'amore per il cavallo Lei In poche parole Ha riassunto Quello che è il nostro Chiamiamolo Core business Che non è un business L'obiettivo Di Race Off È proprio quello Cercare di Fare un quadro Il più completo Possibile Di tutto ciò Che sta dietro Al cavallo Il mondo del cavallo E anche Delle corse Cosa è che fa venire Voglia Una domenica In cui ci sono Comunque più di 30 gradi A una persona Non diciamo l'età Perché non è vero Che poi sono le donne Insomma Ognuno poi Sono fatti i suoi Di passare Una domenica Al pomeriggio Qui dopo magari Qualche tempo In cui le redini Erano rimaste a riposo Perché questo Credo che sia La verità di oggi Sì È vero È vero Io In poche parole Ho smesso di correre Negli podri amatoriali Negli anni 80 E poi per ragioni Di lavoro Per la mia carriera E tutto Ho ripreso in mano Le redini Dopo 35 anni E cosa ti porta A fare questo La passione Innanzitutto Per il cavallo Ma l'amore L'amore Per questo animale Non dimentichiamolo mai Il cavallo Ci può insegnare Tante 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 belle cose Bisogna Bisogna avere La passione Innanzitutto Ma soprattutto Saperlo rispettare Tanto è vero Che noi Amatori Qua a Montechiarugolo Coriamo Senza frusta Per noi La frusta È una È un momento Di punizione Per il cavallo E non va bene Non va bene Tanto è vero Che lottiamo Affinché Si cerchi Di introdurre Questa Questa Costrizione E si cerchi Non tanto Di introdurla Ma di togliere Questa costrizione Al cavallo Perché Io almeno Noi pensiamo Noi appassionati Pensiamo Che Possa farne Tranquillamente A meno Certo Ci sono già state Delle dimostrazioni Ci sono ovviamente Varie correnti di pensiero Io credo Come abbiamo già ribadito Che la frusta Soprattutto Se esercitata Usata In malo modo È sicuramente Uno strumento Di punizione È chiaro Che può essere Anche uno strumento Di Di aiuto A quella che è La guida Di un animale Perché Andrebbe usata Solamente Come indicazione Abbiamo avuto Purtroppo In passato Tanti esempi Di un utilizzo Non congruo E questo ha portato Soprattutto Un grande problema Non so se è d'accordo Di visibilità Negativa Al pubblico Cioè Diceva prima Anche Lorenzo Morini E anche altre persone Che ho avuto modo Di conoscere Che un bambino Che comunque Vede in una corsa Un cavallo Che viene frustato Uso questo termine Che è già brutto Di suo Ma vorrei puntualizzare Che non è La frustata Molte volte È il rumore Che dovrebbe essere Quella l'azione Però comunque Anche se Viene usata bene Purtroppo L'immagine E visto che Il mondo Dell'ippica Ha terribilmente Bisogno Di ricrearsi Un suo fascino Anche verso I più giovani Quello è sicuramente Un ostacolo importante Quindi Mi sento In qualche modo Di appoggiare La vostra posizione Più che altro Per un ritorno A una visibilità Che diventi importante Gli inizi Della sua esperienza Ippica Quali sono Cioè È una cosa Che nasce per caso C'è familiarità No 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 Io vengo Da una famiglia Mio padre Era Era Maniscalco E Era il Maniscalco Di Pino Rossi Prima E poi Di Edi Gubelini Sino All'età Della sua pensione Poi è andato in pensione Quindi Diciamo È stato Tra i fondatori Dall'ipodromo Materiali di Broni Che ha visto i battenti Che ha aperto i battenti Negli anni 60 62 63 E che poi Si è concluso Dopo un ventennio Verso gli anni 83 Era una grande crisi Che c'è stata Nel nostro sport Sì Legata Soprattutto A A delle posizioni Che non erano Viste molto bene Dal ministero Dopo quegli anni Quel ventennio Che ho trascorso Correndo E vincendo Nell'ipodromo Di Broni Sono Passato a fare Alcune corse Un anno A Soresina Un altro Ippodromo Amatoriale E a Novi Ligure Sì Dopodiché Per ragioni Proprio di lavoro Io Facevo il medico Il medico condotto Il vecchio medico condotto Come si intendeva Una volta Sono stato vicino Al mio lavoro Sino Agli anni Agli anni 2000 Dopo gli anni 2000 Dopo aver fatto anche Una certa esperienza politica Legata Alla mia elezione Come sindaco Di una città Per due mandati Il partito Che io rappresentavo Ha voluto Mandarmi a Roma Sono stato a Roma Sei anni Dopodiché Dopodiché Sono andato a dirigere Un'azienda ospedaliera Per altri otto anni Nella Bergamasca E da lì Poi sono andato In pensione E guarda caso Il conoscere Il Lorenzo Morini E altre persone Che mi hanno dato L'opportunità Di ritornare in sulchi Dopo ben 35 anni E adesso Me la godo bene Come è andato oggi? Così andiamo Andiamo alla stretta attualità Oggi Oggi Sono arrivato secondo Secondo in una batteria Il cavallino Era un cavallino Molto Molto carino Da guidare Otis di Pippo Sì Purtroppo Avevamo contro Un cavallo Molto Molto più forte Del mio Ma però Si è comportato Nudes BF Nudes BF Sì Guidato da Jessica Pompa Jessica Pompa Che è una grande Una grande driver Molto brava E poi Umile E amica Ecco Sì Ecco una cosa Che mi va di sottolineare Di Jessica Perché un po' La conosco L'avevo vista Ma tutte le volte Anche quando vince La prima cosa Dal merito al cavallo Sì Ma lo dà Con quello sguardo Che non è Dice sì Lo so Dico così Ma non lo penso Ma lei lo pensa Veramente Ed è molto 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 Apprezzabile Molto bello E la dimostrazione La si trova Nel suo stile Di guida Con cavalli Problematici O con cavalli Che hanno dei problemi Che guarda caso Lei guida E vince Quindi ci deve essere Un transfert Fra lei E il cavallo Che solo lei Sa creare Ecco infatti Voglio anche imparare Perché invece Non guido cavalli Problematici Ma arrivo ultimo Quindi faccio Un transfert Negativo Perché sono io Che traggo beneficio Dal cavallo Perché io quando Scendo dal sulchi Sto meglio Ma credo che questo Sia da ex medico Cioè voglio dire L'ippoterapia Non è un'invenzione Dei no altri Assolutamente Io ho avuto esperienze Dirette e personali In scuderie Di comunque un beneficio A livello morale E quindi poi anche fisico Anzi Lancio questa provocazione Da medico Sì Quale rapporto Si può effettivamente Creare Tra il beneficio morale Di andare una giornata Di andare una giornata a cavallo E l'eventuale beneficio fisico Ci può essere una correlazione Ci sono tutte e due le correlazioni Quelle fisiche E quelle morali O psicologiche 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 Più che morali Fisico Perché sappiamo benissimo Che montare a cavallo Montare a cavallo Aiuta È uno degli sport Più completi Dopo il nuoto L'equitazione Perché aiuta Allo sviluppo Delle articolazioni Dei muscoli Della schiena E tante altre Tante altre particolarità Dal punto di vista psicologico È chiaro che Quel transfert Di cui noi parliamo Si rende evidente Nel momento In cui L'ipoterapia Viene usata Per i bambini disabili Cioè Ci deve essere Per forza Qualcosa Che aiuta Che aiuta L'animale A A dimostrarsi Tutto e per tutto Una forma Una forma Di unione Con il bambino È difficile Da spiegare Dal punto di vista Semplicistico Però Noi vediamo Che I successi Ottenuti Dall'ipoterapia Con i bambini disabili Sono Grandi Sono grandissimi Ecco Questo è un messaggio Che ci tenevo molto A mandare Grazie a Cesare Ercole Che l'ha sottolineato Una volta di più E a questo punto Prima di salutarci Che poi dopo Andiamo solamente Cambiamo stanza Andiamo a mangiare Di là E a festeggiare Una così bella giornata Noi chiediamo A tutti i nostri ospiti Di raccontarci Un episodio Bello Simpatico Toccante Della propria esperienza Nel mondo dei cavalli Perché credo che Tutti gli sport O tutti gli hobby Comunque ti danno qualcosa Ma molte volte Il cavallo Riesce a lasciarti Dei ricordi Un po' più indelebili Io sono di parte Lo ammetto Per cui ovviamente Come ospite Non riesco a non Sottoporla Alla stessa domanda Un episodio Curioso Buffo Particolarmente Importante A cui si sente legato Come ricordi Un episodio Che non dimenticherò mai È legato Ad un cavallo Che avevo comprato Da Edi Gubelini Era Uriele Un grande campione Che comprai A dieci anni Per correre Nel mio ipodromo Bene Dopo aver vinto Tanti gran premi Durante una corsa Si ruppe Un nodello Si ruppe un nodello È chiaro che Il mio comune sentire E quello di mio padre Era quello di non macellarlo Quindi lo portai Caricandolo faticosamente Sul vandal Allora Meschia Il veterinario Fece le radiografie Mi diede quella diagnosi Ma io In perterrito Decisi di portarlo a casa E cominciare Ad ingessarlo In ingessarlo Mio padre Come maniscalco Gli fece un ferro particolare Rinforzato E io tutti i giorni Da medico Da medico Allora mi ricordo Ero appena laureato Lo ingessavo In continuazione Quasi tutti i giorni Non so se in giorno no Adesso non ricordo Però L'episodio Bello È Questo Che un giorno Mentre lo governavo Lo governavo Lasciai aperto La porta del box E il cavallo uscì E il cavallo uscì Con le sue gambe Perfettamente Non dico Come prima Ma comunque Riusciva a camminare Tanto è vero che Poi per le sue qualità Lo fece provare Come monta privata E riusciva anche A coprire A montare Le cavalle Che avevamo In allevamento Questo è un episodio Che non dimenticano mai Emozionante Emozionante Non dimenticherò mai Ecco E anche qui Devo cogliere uno spunto Perché è assolutamente importante Mi hanno parlato di macellazione È una parola che fa male a sentirla Certo E noi comunque È brutto Mangiamo carne Poi ci sono i vegani Che stanno cercando Di portare avanti Un loro modo Di vedere La natura Un discorso di sostenibilità Anche Di quello che è il nostro pianeta Certo Rimanendo nel cavallo Tanti proprietari Hanno interesse primario Nel mantenere comunque in salute Il proprio cavallo Non tutti Ma del resto Il mondo è fatto Di A Di B E di Z E di bianco e di nero E volevo Sottolineare A chi ci ascolta Che non fa parte Del nostro mondo Ma che magari Anche ascoltando Ci sta appassionando Che esistono delle regole vigenti Che nel momento Che nasce un cavallo Trottatore Viene scritto Aralbo Dei trattatori Devi dichiarare All'origine La sua destinazione Per non lasciare un dubbio Che non è che è un cavallo Che smette dopo No Ci sono delle regole Molto chiare E credo che oggi Una buona parte Di persone Quelli che sono i proprietari Così di sicuro Non scelgono La destinazione D'uso alimentare Credo che Questo Non lo so Non voglio Non voglio entrare Sì no però No no Vede Il discorso Si apre ancora di più Quando noi ci chiediamo Cosa facciamo Con questi vecchi cavalli Che Vengono allontanati Dalle piste Perché O perché hanno dei guai O perché non riescono Più a correre E bisogna evitare Di prendere In considerazione Il DPI E cioè La macellazione Certo Bisogna cercare Un modo Per sistemarli Per sistemare E aiutarli E Devo dire Che Io Personalmente Ci sto lavorando Con altri Miei colleghi Con altri miei colleghi Appassionati Per trovare Delle soluzioni A questa Una per tutte Potrebbero essere Questi cavalli Che ormai Non fanno più I grandi tempi Quindi non possono più Competere Nelle piste pubbliche Essere magari Adottati Dalle piste Amatoriali E fare Da Diciamo Scuola guida Per i nuovi Giovani Che vogliono Avvicinarsi Nel nostro sport Esatto Comunque sono Tutte delle proposte Che forse Mi permetto di dire Fino a 30 40 anni fa C'era meno Sensibilità A questo problema Oggi c'è una sensibilità Come quella Della frusta Cioè Si sta sviluppando Molto Io uso questo termine Forse improprio Una etica Su quello Che è il rispetto Dell'animale Ma questo non vale Solo per i cavalli Cioè oggi comunque Anche a livello Di leggi Così c'è un'attenzione Molto più Per il rispetto Dell'animale E questo Credo che sia Un vantaggio Per tutti E fermo restando Che poi Ma lei dice giustamente Il rinnovo Della nostra passione Deve passare Attraverso Un rinnovo Culturale Certo Della persona E quindi Aprirsi Alle esigenze Della Della nuova società Che si sta formando Dei giovani Lei prima Accennava Il fatto Che Un bambino Che vede Unire Un cavallo In corsa Non lo vorrebbe vedere E' giusto E' vero E' vero E queste Sono le nuove Le nuove Sensazioni Che si captano Dialogando E parlando Con le persone Ecco ci tengo a dire Che non è una critica Per il guidatore Assolutamente Per chi ci segue Noi cerchiamo solo Di sollevare degli argomenti Di cercare degli spunti E' un cambiamento E' solamente un cambiamento E come cambiamento Se vogliamo Provare a rinascere A ricrescere Dobbiamo tenere presente Di quello che il nostro pubblico Ci chiede Se continuiamo a vivere All'interno di un circuito Molto ristretto Non arriveremo Da nessuna parte E soprattutto Ci perderemo Queste bellissime giornate Montechiarugolo Dove c'è stata Della gente Da applaudire A vedere Mentre si beveva La sua aranciata E uso termine aranciata Vedo come si beveva Poi quello che voleva E anche ad applaudire Cesare Ercole Che ringraziamo tanto Per questa sua partecipazione A Race Off In bocca al lupo Per tutte quelle Che saranno Le occasioni future Magari ci ritroveremo Anche in pista Qua a Montechiarugolo Sarò cattivissimo Non è vero E ora Buoni tortelloni Grazie a lei Grazie a tutti Salute Allora Ribadisco Le interviste Credo che vi confermino Un clima Di grandissima cordialità Che si è respirato Ma anche di persone Effettivamente appassionate Del trotto E appassionate Dei cavalli Abbiamo toccato Anche un tema Comunque spinoso Perché è inutile Nascondersi dietro a un dito O cupore Come diceva Oddio Dipende poi da che dito è Perché se è un dito Molto grosso Può anche provare Nascondersi Però il discorso Della destinazione D'uso dei cavalli Fino a Una decina D'anni fa Quindici anni fa Diciamo che veniva Spesso evitato Perché comunque Invece è giusto Anche sottolineare Che I cavalli Devono essere preservati Ove è possibile In tutta la loro vita Non solo nella carriera Dove è possibile Poi ovviamente Ci sono dei limiti Anche a quello Cosa ne pensi tu Moreno? Giustissimo È giustissimo Il cavallo Va preservato Per tutta la vita Non È il discorso Di macellarli Loro non sarebbero I cavalli Non sarebbero Certo Non mi è piaciuto Però sei d'accordo Sul fatto Come abbiamo detto Appunto Con Cesare Ercole Che fino a qualche tempo fa Diciamo Ma non solo per i cavalli Per tutti gli animali C'era un'attenzione Molto più C'erano delle luci Più spente C'erano certe cose Venivano passate un po' più in silenzio Sei d'accordo? Sì Sono d'accordo Non lo sono d'accordo Guardiamo quello che è successo in Cina Con i cani Anche loro hanno cambiato Parecchi Cioè I cani Non si mangia più in Cina Certo In teoria Pensa Pensa che sfortuna Fantozzi Lui purtroppo Ha dovuto subire Quello che non era ancora Questa nuova Del resto Per uscire con la Silvani Sappiamo che questo è altro Sarebbe Povera La signorina La signorina Silvani Comunque Ritornando ai nostri amici cavalli Chiuso un attimo La parentesi Dell'ipodromo del castello Torniamo Da noi E hai qualcuno Da segnalare Della giornata di corsa Bologna Qualche prestazione Che ti ha particolarmente convinto Qualche situazione Particolarmente simpatico Gradevole Correva di nuovo Venisaggio Dopo i record della pista Sì Ritro Sono andato subito Non ha fatto i record della pista 1.12 Però Come si dice Con la pipa in bocca Tutto in mano Tranquillamente Poi una bella prestazione Anche sempre Di goccia d'oro Di Asdaura Che ha un 13.6 Una cavalla di Mauro Prospero Che sta crescendo Veramente Veramente Tanto Era 1-0-0 Quindi favoritissima E di fatti Da favorita Ha vinto bene Poi sì Un solito Poi Maurizio Che ha vinto la prima corsa Con Ibellino Matto Come catch Maurizio Ricordiamo Un'altra vittoria Come guida Di Goccia d'oro E ci senti Senza muovere le mani Senza Proprio Bello 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 Importamente Bellissimo Bellissimo Beccale Ecco E se ci spostiamo invece Oltre Alpe Quindi andiamo a vedere In Francia Cosa è successo Il Ballier Ballier Che ha visto Un'affermazione Molto importante Di FaceTime Bourbon Che non era Come si diceva Una volta Come Canta Napoli Canta Napoli E sempre Canta Napoli E noi salutiamo Lo zio Salvio Sempre Con grande piacere Sì Sempre Canta Napoli Da un record mondiale A un altro Però sempre Canta Napoli Siamo passati Dall'1 9 3 Di Di Zaccongiù Zaccongiù A Padova Allevato Dalla Bivas Allavato Dalla Bivas All'1 9 4 Sui 2.100 Di FaceTime Bourbon Proprietà Della Bivas Quindi Bivas Bivas Il signor Giuseppe Franco Canta Napoli Qua canta Napoli E viva Napoli E viva Napoli Perché ci sta dando Veramente delle grosse soddisfazioni Tra l'altro Una vittoria Che non replica Nessun tipo di No Che non permette Nessun tipo di replica Perché voglio dire Il cavallo è stato 400 metri In terza ruota Ha lasciato a se stare Prima Bold Eagle Che era andato in testa Che dopo ha fatto Ha fatto sfilare E Nino Dopo Merò E dopodiché È arrivato lui E proprio Credo che Goop Non ha neanche dovuto Muovere I migliori No 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 È stato veramente Disarmante Io L'ho sempre detto Questo sui 2.100 È imbattibile 2.700 è un po' lunga Però 2.100 Se ben guidato È imbattibile Certo Questo ha fatto veramente Non ha mosso le mani Proprio Ha fatto di suo Nonostante la bellissima prestazione Di Droll Duget Che è un cavallo di Berkruis Che è stracorso Feliciano Che è venuto Diretta da Rio Impressionante 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 E tutto Però Non è come dico FaceTime Gli ha oscurati tutti Veramente Gli ha oscurati tutti Perché sembrava Che non andasse Quando mi hanno detto 1.9.4 Ho detto Siete dei ricordati Che non capite neanche Invece Non sapete Legge il cronometro Come dicono Quelli più forti Guardando la corsa Guardando la corsa Non sembrava neanche Che ti tornassero In effetti La sensazione I cavalli forti Poi sono così Perché Sacco Giò Sabato scorso A Padua Era la stessa cosa Vanno forte Ma non ti danno L'impressione Di andare così forte Esatto Certo Un dato Che non vuole essere Una critica Però è solamente Anzi Un modo Per ricordarlo Quando andava meglio Perché vedere Un bold eagle Così spento Francamente Fa impressione Il cavallo Che da un po' Che non dà Non dà più punte Però In questa situazione Così negativa Perché effettivamente Non è andato in testa Poi è scomparso Nel nulla Io comunque Voglio ancora ricordarmi Del bold eagle Che vince due volte L'America Fa tenerezza Cioè Queste punizioni Un cavallo Come bold eagle Volebbero evitare Comunque Certo Ma ho letto Che adesso Farà l'ultima corsa A Mons Dopodiché Si ritirerà D'attività stalloniera Beh Faccio lui Sinceramente Sia Io Sia Guaratot Sia Pilaschi Il proprietario Non li capisco Perché anche Guaratot Non dovrebbe rendersi Complice Di una punizione A un cavallo Che ha vinto Tutto quello che deve Certo Anche qualcosa Certo E con questa No Diti pure Volevo parlare Del primo vero Gran premio Dei tre anni Francesi Si Che è il premio Alberto di El Che ha vinto El Gafel La controfavorite Il controfavorite Di Raffin Secondo È arrivato Ockerberry Guidato D'Anivard Tra le altre cose Tra le altre cose La curiosità Ne volevo parlare Proprio per la curiosità Noi conosciamo tutti Jean-Michel Basir Come preparatore Come guidatore Ecco In questo caso È presente Come allevatore Il secondo Il secondo Arrivato Che è un figlio Di Buster Wiener Un cavallo Che ha corso Fino Un paio di anni fa Un discreto Cavallo E Osaka Berry Quindi è allevatore Di questo Di questo cavallo Quindi Oltre che essere Un grande preparatore Un grande guidatore Sta facendo le prove Per diventare Anche un grande Allevatore Diciamo che Con le sue competenze Credo che Jean-Michel Basir Posso fare Anche la guida Dell'autostart Con grande Perizia Penso anche io Tra l'altra cosa Un cavallo Che con nove corse Ha due primi E sette piazzamenti Quindi è anche Un cavallo regolare Certo Ecco Io volevo Questa curiosità qua Che poi Curiosità Per il DL È una delle corse Più importanti Per i tre anni francesi Ecco E ha vinto Il contro favorito Appunto È Elgertel Che era un figlio Anche lui Di Charlie Denoyer Che è un figlio Di Reddy Cash Anche lui Cavallo che Dieci corse Sette prime Due piazzamenti Certo Non piazzate Era la favoritissima Havana Dorsi Guidata da Basire È nata da Basire Chiaramente Che è un figlio Di Royal Dream E a Villadarelli Di Cash Cavallo che Aveva sette primi In fila Prima di questa Di questa scappuzzata Ecco Te la concedi Te la concedi La scappuzzata Te la concedi Me la concedo Anch'io Sì Ecco Ok Allora con questa Diciamo che Salutiamo Il nostro pubblico Anche per questa puntata La trentasettesima Sempre se non ci sbagliamo Nei conti Ma sono troppe Ormai cominciamo a perdere Dei colpi Cominciamo a perdere Dei colpi Sì Stiamo in attesa Anche di potenziali Novità Che saremo poi letti Di condividere con voi Per quella che è la stagione estiva Di Race Off Comunque l'importante È che voi restate con noi Noi ci impegneremo Sempre di più Per darvi un prodotto Che possa divertirvi Perché ci teniamo Anche al divertimento Darvi qualche informazione Qualche spunto di riflessione Anche su argomenti Che certe volte Possono anche Essere trattati Con un po' di titubanza Come quello che abbiamo Trattato appunto Della vita E della cura Di tutti i nostri animali Compresi i cavalli Che comunque Ripeto Si parte dal loro benessere Per poi costruire Tutto il resto Quindi salutiamo tutti Grazie Moreno Di essere stato Grazie a te Cioè grazie Bueterno ti sei mossa Sei stato a casa Grazie stavolta niente Grazie a me Che sono andato fino Fino alle torre del castello E viva Tommy E viva Race Off E viva Littica Alla prossima puntata State con noi Con Race Off Ciao 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 Grazie a tutti.